Quarantanove persone sono state denunciate in provincia di Cosenza con l'accusa di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro in seguito a una complessa indagine sul caporalato compiuta dalle fiamme gialle. Grazie alle indagini, che vanno dal febbraio 2015 al maggio 2016, nella piana di Sibari è stato individuato un cittadino di nazionalità pakistana che trovava manodopera illegale a basso costo per gli imprenditori agricoli. Il caporale, nella gestione dell'attività illecita, intratteneva rapporti con due soggetti in regime di protezione già affiliati a un'andrina locale e con 19 immigrati irregolari nonché con un soggetto latitante. I lavoratori reclutati venivano alloggiati in stalle e porcili adibiti a veri e propri dormitori in condizioni igienico-sanitarie e degradanti, mentre i loro documenti di identità erano detenuti dal caporale. Condizioni di lavoro prive di sicurezza e paghe basse hanno però fruttato al caporale guadagni illeciti quantificati in 250.000 euro incassati in poco più di un anno, in parte destinati alle cosiddette bacinelle delle organizzazioni criminali e il rimanente trasferito in Pakistan attraverso servizi di money transfer e post-pay.